Per la giornata di domani ancora vedete cielo parzialmente nuvoloso, per domenica altrettante nuvole con nuvole basse, le temperature sono senza variazione di rilievo, possibilità di cielo nuvoloso anche per le giornate di lunedì e martedì ma senza precipitazioni di sorta. Allora cominciamo dal resto del carino, scusate, la pagina di Fano, eccola qua, a Cucurano, scuola green e antisismica, l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi dice no ai prefabbricati, voglio soltanto il top, ieri c'è stata l'apertura delle buste e se tutto va bene a settembre del 2018 i bambini di Cucurano e Carrara di Fano potranno entrare nella nuova scuola che è tanto attesa. Sono state infatti aperte ieri le offerte economiche arrivate per la costruzione della futura scuola elementare. C'è questa iniziativa di cui si parla qui di spalla sempre sulla pagina del carino di Fano, 400 alberi piantati e corrispondono ai 400 nuovi nati e vedete il sindaco di Fano Massimo Seri che ha piantato lui il primo albero. Poi c'è una polemica sulle pagine di Fano, sulle colonne del carlino, una polemica tra la Proloco di Fano e l'assessorato al turismo. L'oggetto del contendere qual è? È il sito web. La Proloco ci copia il sito web, strappo tra Marchegiani che è l'assessore al turismo e Etienne Lucarelli che è il presidente della Proloco di Fano. L'assessore scrive infatti al presidente per chiedere chiarimenti su questi contenuti perché pare che siano gli stessi, cioè stesse fotografie, lo stesso calendario delle manifestazioni. Insomma il sito Proloco.fano.it è troppo simile a quello turismo.fano.it. E dice Lucarelli mi sembra che la contestazione fosse limitata comunque all'uso del logo del comune senza autorizzazione. E poi dice abbiamo fatto solo ricorso alla stessa fonte per la stesura dei testi. Sotto invece la questione di Aset in consiglio disco verde alla fusione esulta il centro-sinistra. Per bacchiocchi del PD l'incorporazione della holding nella SPA libererà investimenti e creerà nuovi posti di lavoro. Trionfalisti, anche quelli di Sinistra Unita, rafforzata dicono loro la dimensione territoriale, gli utili adesso verranno distribuiti. C'è il problema della caldaia rotta che sta tenendo gli atleti, quelli che fanno nuoto praticamente a casa o in altri impianti. Ma la caldaia a quanto pare è stata rattoppata e dunque sabato si potrà, domani si potrà tornare a nuotare. Serve un impianto però di riscaldamento nuovo da 20.000 euro. Non si sa chi pagherà quest'impianto, intanto il Comune va verso l'acquisto della piscina da parte della provincia, perché sapete che l'impianto è di proprietà della provincia, il Comune a questo punto sta pensando di comprarlo, visto che farla nuova è sempre stato un grosso problema. Il gestore Giorgio Ricci dell'associazione Fano Fortuna dice che già spesi 70.000 euro per gli spogliatoi, insomma adesso questi 20.000 sul groppone per la caldaia sarebbero troppi, anche perché, lo ricordiamo, l'ha detto lo stesso Ricci qui su Fano TV, all'interno del telegiornale Occhio Notizia, la caldaia aveva appena sei anni di vita, quindi insomma un po' presto per rompersi. L'ideatore invece Claudio Pacifici, questo commerciante orafo che però ha tante idee per la testa, che ogni tanto ci regala delle cose interessanti, invita adesso a questa nuova iniziativa legata al Natale. Pacifici Lancia è infatti il presepe libero, fai un presepe dove vuoi, è un concorso a premi natalizio ed è atto organizzato dall'estroso Claudio Pacifici. Questa originale iniziativa dà a tutti la possibilità di realizzare e installare dei presepi di ogni tipo, forma, materiale e quant'altro, all'interno di cortili, case, giardini, balconi, negozi, magazzini, in luoghi pubblici, insomma ovunque avviate voglia di fare questo presepe, all'interno delle mura cittadine. Referendum, alcune curiosità, come sempre alla vigilia del voto, sapete il 4 dicembre, ma lo sanno anche i muri, in realtà il 4 dicembre si vota per il referendum, a Fano ci sono 47 mila elettori, addirittura due che si trovano temporaneamente in Italia, hanno chiesto proprio di votare nella nostra città. E c'è anche chi ha 103 anni, come Isora, non manca all'appuntamento. Tra loro ci sono anche 17 terremotati. Bravi ma occhio ai contenziosi. C'è questa iniziativa di cui se ne parla ormai da diversi giorni del sindaco di San Giorgio di Pesero, che è il primo cittadino che vuole comprare tutte le proprietà abbandonate del comune per darle a chi ne ha bisogno. Il giudice Maddalena loda il coraggio del sindaco ma avverte, occhio appunto ai contenziosi. Il comune di San Giorgio sarebbe il primo in Italia a fare questo tipo di operazione, cioè di acquisire proprietà abbandonate. Poi vedete sempre sul giornale qua di fianco il sindaco Barbieri con Alice Andreoni e Giovanni Di Tommaso e questi quattro oggetti di colore giallo. Altro non sono che dei defibrillatori. Sono quattro defibrillatori che sono stati dati ad altrettante enti, associazioni e quant'altro che ne beneficeranno in caso di, speriamo di non usarli, ma insomma in caso di necessità. Trenitalia taglia i pullman invece sulla tratta Pergola-Fabriano, l'altro articolo qua in fondo alla pagina e andiamo adesso invece sulle pagine del Corriere Adriatico. Ecco qua la prima pagina. Sfida lanciata alla Romagna per il Natale più grandioso. È la sfida che Matteo Ricci, ma poi insomma sfida è più giornalistica che altro, comunque il Christmas Village di Riccione con l'infinita pista di ghiaccio lungo Via dei Cercarini sembrava qualcosa di ineguagliabile, ora invece Pesaro compete, e come, con il Natale della vicina Romagna. Tanto che da questo fine settimana molti romagnoli saranno a Pesaro e il Sindaco di Cattolica ammette, è stato organizzato un bel evento. E poi c'è la storia, l'odissea, in prima pagina, di una mamma e di una famiglia fermana, di questa mamma che in lacrime, disperata, per il semplice fatto che siamo in ospedale a Salesi, l'ospedale dei bambini, cerca di far visitare questa bambina. Purtroppo il macchinario si è rotto, non l'hanno avvertita, per la quarta volta è partita da Pedaso, dove abita, per fare questo esame, è arrivata lì, per la quarta volta le hanno detto che non poteva farlo. Lei dice, disperata, ho letto l'articolo, ma non ci soffermiamo più di tanto, ma lo potete leggere a pagina 7 sul Corriere Adriatico, a un certo punto lei dice, sono separata, non ho un lavoro, non ho nulla, per me spostarsi da Pedaso ad Ancona è una spesa, e insomma, potevate anche avvertirmi al telefono, e invece non lo hanno fatto, per quattro volte consecutivo. Poi ha chiamato i carabinieri, insomma, si è un po' arrabbiata, ha pianto, disperata, poveretta, è stata portata al Torrette, e lì hanno fatto l'esame alla bambina. Storie di mala sanità, più o meno. Allora, Fano, Corriere Adriatico, tra cocaina e giochi d'azzardo, il disagio è sempre più donna, le comunità di cura locali si riempiono di casi, emergono anche nuove vittime, ci sono una marea di donne che giocano tutto il giorno a queste macchinette infernali, nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti che hanno perso il lavoro e si sono persino giocati la casa. Un manuale contro la dipendenza da scommesse. Oggi al Cinema Malatesta, l'ex Cinema, no, il Cinema, non ex, il Cinema Malatesta, il 17esimo convegno nazionale del Conaga. La nave dei record, invece, è l'altro pezzo, l'altro articolo sul giornale delle Marche. La nave dei record parlafanese, naver montaggi di Carmelo Cogliandro, nel cantiere della MSC Seaside, da 700 milioni di euro. È un'imbarcazione che è la più grande mai varata in Italia, all'opera diversi saldatori e carpentieri locali. È un colosso da 154 mila tonnellate con 2.067 cabine ed è abilitato a 5.179 passeggeri. Qui c'è il ponte della nave da crociera che ha un valore di 700 milioni di euro. Lo vedete, probabilmente questa è un'immagine elaborata al computer, è un rendering, come si dice. Però ecco, vi dà l'idea, insomma, della dimensione. Fanghi dimenticate a Torrette di Fano, nuova proroga, prelievo rinviato a fine 2017 per i 10.000 metri cubi depositati 4 anni fa. E poi la notizia che riguarda il Carnevale di Fano, una buona notizia, sicuramente, Carnevalia che Dream Team fanno con Viareggio e Venezia. La città della fortuna entra nel sodalizio degli eventi carnascialeschi più importanti d'Italia e dunque Fano va insieme a Viareggio, Venezia, Putignano, Manfredonia, Santià, Ivrea, Treviso e tanti altri che uniti diventano Carnevalia, un'associazione che riunisce i carnevali più importanti d'Italia con lo scopo di promuovere la penisola nel mondo e di favorire la tutela e lo sviluppo della cultura del Carnevale. Lo scopo, scusate, è promuovere la penisola appunto nel mondo e di favorire la tutela. L'atto formale adesso è a Roma. Maggioli, la morte dell'ex assessore Marco Maggioli, malato di SLA da 15 anni, esempio per tutti. L'Aisla, che è l'associazione che riunisce i malati di SLA, non dimentica. Anche i dirigenti milanesi dell'associazione salutano il coordinatore marchigiano scomparso. Dalla pagina della Valle del Cesano, comunicazione e nuovi spazi, l'occupazione cambia volto, al punto giovani, giornata formativa sul co-working e le frontiere social. Scuole e sport stanno a cuore, donati quattro defibrillatori, vinto il bando regionale. L'assessore di Tommaso, siamo a Mondolfo, dice salvavita e ricchezza unica. Poi da Senigallia, Natale. Natale conto alla rovescia, con colori, sconti e sapori. Tante e variegate le iniziative in cantiere. Domani l'accensione delle luminarie. Da Pesaro, invece, sorprese a rubare fuori dall'ospedale San Salvatore. Finto malore da parte del ladro per non farsi arrestare. Sono stati presi dei carabinieri nel parcheggio di Muraglia. Uno dei ladri simula un attacco di cuore. Negli ultimi tempi sono stati segnalati nella zona diversi furti ai danni di auto e abitazioni. E rimaniamo, questa volta entriamo dentro l'ospedale di Pesaro perché c'è un'emoragia di eccellenze. Anche Zingaretti, il professore con il suo staff, se ne va, addio a Marlo. Opposizione aspetta il sostituto e accusa quella della perdita di Zingaretti. È una perdita gravissima. E dunque è l'ennesima eccellenza che lascia l'azienda Marche Nord. Dal primo dicembre il professor Costantino Zingaretti non è più il primario di chirurgia di Marche Nord. L'opposizione insorge, critica comune e regione che non sono riusciti a trattenere una delle punte di diamante dell'equipe medica dell'azienda ospedaliera. È un addio doloroso anche per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che definisce Zingaretti un pilastro della nostra sanità. È tutto per gli altri aggiornamenti. Ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.